Conoscete il capolavoro artistico che incarna la passione e l'idea di libertà? La libertà che guida il popolo, di Eugène Delacroix. Immaginatevi una tela imponente conservata a Louvre, che misura 260 x 325 cm. Quest'opera è stata realizzata nel 1830, per commemorare la rivoluzione di luglio e celebrare l'importanza della libertà. Delacroix, solitamente ispirato dalla letteratura, questa volta si concentra sulla storia contemporanea e ci trascina con la sua passione. Ma cosa rappresenta esattamente questo dipinto? Quali sono i fatti storici? Delacroix ha voluto esaltare l'insurrezione popolare e la lotta per la libertà. Guardando l'opera notiamo l'effetto eroico creato da luci e ombre contrastanti e da colori vibranti come il giallo delle vesti della figura simbolica della libertà e il rosso della bandiera. Delacroix è riuscita a fondere il realismo con elementi fantastici, dando vita a una composizione straordinaria. Inoltre nel dipinto vediamo come Delacroix unisca diverse classi sociali nella lotta per la libertà. C'è il popolano, il militare e persino il borghese con il cilindro. Questa rappresentazione mira a coinvolgerci nella lotta e a farci sentire parte del popolo. Un altro aspetto interessante sono i riferimenti ad altri artisti, come Géricault e la sua zattera della medusa. Delacroix ha preso spunto da questa composizione instabile, ma ha introdotto il suo stile romantico e una visione più individualistica della lotta popolare. E voi cosa pensate della libertà che guida il popolo?